ciao a tutti cari amici e benvenuti da adri bijou oggi in questo video vi mostro alcuni stampini creati da me in questi giorni sono delle commissioni che mi hanno fatto e me li mostro già sformati perché dovete sapere che questa è la terza volta che registro questo video perché nella prima volta ho cercato di sformare insomma pensavo tutt'al più di sformare con voi gli stampini invece in realtà poi al termine della registrazione non aveva registrato nulla dopodiché l'ho fatto di nuovo con gli stampini sformati e nulla mi sa che l'applicazione di video show ha dei problemi non so per quale motivo approfondirò comunque il piacere di mostrarvi gli stampini che ho fatto in questi giorni che sono partiamo partiamo da quello che a me piace di più ed è questo dell'unicorno guardate se non è stupendo bellissimo allora io lo adoro è veramente bello è una formina in pvc sapete quelle che hanno la calamita e ho voluto riprodurlo è venuto qualcosa di stupendo guardate qua se non è stupendo questo unicorno ed è il primo ed eccolo qua dopo di che ho fatto questo con le due caramelle opache ma molto belline vedete così ne ho fatte due in maniera che poi si hanno due caboson da poter riempire per fare orecchini eccetera eccoli qua e mi è riuscito bene mi è riuscito bene ed è questo poi abbiamo questo simpaticissimo delle musica 7 vintage che belline guardate mi ricordate di avere questi charles ho pensato di metterli due in uno sempre per lo stesso motivo così da potersi fare due in uno insomma ed eccoli qua poi 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 vi faccio vedere questo stampo b caramelle anche queste sweet una scritta sweet molto belline e sono riuscite benissimo molto bene poi vi mostro un altro molto bello è questo stampo qua mi piace tanto di questo caboson che mi è stato regalato da barbara del canale baby b nello scambio creativo guardate quanto è bello viene spettacolo bellissimo davvero bello ed è questo qua poi vi mostro vi mostro questo stampino dell'holly pop lucidissimo così venuto bene poi vi mostro questa stellina cicciottina venuto bene così dopo ho fatto questo piattino un vassoietto insomma che è bellino per poter fare successivamente poi da mettere sopra delle creazioni fimo oppure del del silicone per fare della panna insomma utile per fare questo genere di creazioni ed è venuto molto bene anche lui lucido poi abbiamo abbiamo degli stampini di cui le creazioni le formine insomma le ho fatte io col fimo le ho lucidate è una commissione per cui il piacere di mostrare perché comunque è stato un lavoro impegnativo e faccio subito vedere sono queste qui quindi ho creato in queste moci dipendenti del call center vedete questa formina qua quest'altra qui tutte ben lucidate dopo l'ho fatto lo stampino che ve lo mostro subito ed è così che bello vedete veramente sono contentissima è stata una bella faticata insomma e quindi meglio così e poi ci sono queste altre due vedete che bellini sono sempre moci la versione femminile e la versione maschile sempre dipendenti del call center con tanto di cuffiette microfono guardate che belli con relativo stampino ecco qua bellino uno e l'altro così benissimo e questi sono i miei ultimi lavori guardo in giro se magari ho dimenticato qualcosa no sono questi questi qua ok facendo al solito la panoramica di tutti i miei stampini mi dispiace non aver potuto sformarli insieme ascoltare quel bel rumore del distacco del cabochon dalla gomma che è un qualcosa di bellissimo da ascoltare rilassante però purtroppo niente dobbiamo aggiornarci al prossimo scopriamo comunque spero tanto che le mie creazioni questo video vi siano piaciute se così un bel like lo sapete che a me fa tanto piacere vi lascio di una buona giornata vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao